Partiamo dal protagonista, Cady Maresh. Procediamo con il fratello, Rai Maresh, Delilah Bard, Lila, come la chiamate, insomma. Ora tocca a Holland Wojtk, ok, abbiamo capito che non so pronunciare il cognome, è fantastico. A lui ci tengo tanto tanto tanto, e anche per l'attore che ho scelto, secondo me perfetti, perfetti. Il capitano Alucard Emery. Oshka, anche qui penso che si pronuncia così. Athos e Astrid Deine. Maxim Maresh, il principe d'acciaio. Emira Maresh. E questo è tutto, spero che come primo video di un mio ipotetico Dreamcast vi sia piaciuto. Se volete condividete questo video, fatemi sapere se siete d'accordo con le mie scelte. Che per mio conto ci ho messo veramente impegno. E io mi diverto tantissimo, è una cosa che mi appassiona trovare un volto per un personaggio che leggo. Poi, ora che sembra che vogliano fare una serie tv proprio su questa trilogia meravigliosa, io non vedo l'ora di capire chi sceglieranno. Anche se per me questo è il Dreamcast del cuore. Quindi fatemi sapere che avreste scelto voi. Magari lasciate un like, seguitemi su Instagram, iscrivetevi, queste cosine qua, insomma. Ci vediamo al prossimo video.